Giovanni finalmente una bella notizia ti ricordi le notizie del mondo che davamo qualche tempo fa bene questa bella notizia invece arriva da Milano dove parte un progetto dedicato all'affido culturale cosa vuol dire i bambini e le bambine che normalmente non possono partecipare agli eventi culturali di vario tipo dal cinema al teatro potranno finalmente farlo grazie alla solidarietà delle famiglie e dei singoli anche che si renderanno disponibili ad accompagnarli insomma un progetto culturale bellissimo è voluto anche dal municipio 8 che dà dei fondi all'associazione mitades che ha avuto l'idea anche in altre città come Roma Milano Bologna Modena e naturalmente l'associazione con i bambini noi siamo felicissimi magari più avanti intervisteremo una o più persone che partecipano attivamente al progetto di affido culturale siamo felici